mi capitano sempre le feste o le memorie oggi è san giovanni della croce questo giovanni questo mistico che ha studiato presso i gesuiti e ha incontrato nella parola di dio la sua strada la sua vocazione incontra santa teresa d'avila altra santa gigante santa teresa e insieme si si scoprono piccoli piccoli come piccoli siamo noi però il vangelo di oggi ci parla di giovanni giovanni battista il precursore l'apripista per l'avvio dell'attesa di gesù che sta avvenendo ancora nelle nostre vite giovanni battista considerato un grande nato da donna però ognuno nel regno dei cieli è sicuramente più grande di lui anche il più piccolo noi siamo piccoli qui i santi sono stati dei grandi e nel regno dei cieli saremo invece grandi camminiamo con dio aspettiamo gesù